Nella Tana dell'Homo Vandalus, ieri siamo tornati in Stradella San Giacomo, laddove per anni il comune ha conservato gelosamente i geroglifici di questo ominide rozzo e ignorante, incisi sui muri e sul portone di questa antica chiesa, oggi sconsacrata, che però resta uno dei patrimoni storici e culturali di Vicenza. Visto che però è cambiata l'amministrazione, abbiamo voluto portare sul posto il nuovo assessore Claudio Cicero perché vedesse con i suoi occhi e lui ieri si è impegnato ad intervenire quanto prima. In attesa che passi dalle parole ai fatti, oggi puntiamo la nostra attenzione sulla telecamera di videosorveglianza, fondamentale perché una volta che i muri verranno ripuliti, sarà necessario tenere alta la guardia contro gli imbrattatori, a cui il nuovo sindaco Francesco Rucco, non più tardi di sabato scorso, ha lanciato un messaggio. Il messaggio è quello del pugno duro da parte dell'amministrazione contro gli imbrattatori, quindi controllo della videosorveglianza, sanzioni amministrative, segnalazioni in prefettura. Devono capire che imbrattare il muro non si fa, è una questione di civiltà, di rispetto della città che li ospita e quindi chiaramente però da questo punto di vista sappiamo benissimo che poi è difficile beccarli, però la volta che li becchiamo gli facciamo passare la voglia di farlo. Certo, ma per fargli passare la voglia bisogna prima catturare l'uomo vandalus con le telecamere di sicurezza. Peccato che in stradella San Giacomo l'occhio elettronico sia un po' strabico. La telecamera purtroppo ha chinato la testa molto tristemente anche lei, non sappiamo che cosa possa riprendere il pavimento. Così come adesso inclinata sicuramente becca il pavimento e non certo la porta. Mi farò anche partecipe con chi sovraintende alla sicurezza e quindi alle telecamere per capire questa telecamera cosa sta facendo. Bene, invitiamo il comune a fare una ricognizione degli occhi elettronici di tutta la città. In stradella San Giacomo la telecamera dovrà essere raddrizzata e se non funziona bisognerà attivarla quanto prima, altrimenti l'uomo vandalus fa quel che gli pare. Noi di Rete Veneta ci staremo sotto, per noi lo sapete, la questione non finisce qui ma continua.